Lucia è, non posso dire una ragazza, perché stando qua con persone così tanto giovani uno si sente molto più grande anche dell'età che ha, però piena di passione. Io faccio le cose che mi piacciono, le cose che mi travolgono e cerco di mettere in queste cose tutta questa energia, come lo faccio con il cinema che ormai seguo da tanti anni. Ho avuto la delega già nel governo Conte I, non sono riuscita a averla durante il periodo di Draghi, però ho continuato a seguire il cinema come se avessi la delega, ora di nuovo è un mondo favoloso perché è un mondo di magia. Il cinema ha cambiato e mi ha fatto prendere anche grandi decisioni nella mia vita, io ogni tanto lo dico, ho fatto l'istituto aeronautico, perché Top Gun mi aveva così tanto, credo che l'abbia fatto a tantissimi ragazzi, così tanto preso che volevo assolutamente guidare la ieri, per cui facevo le ore di volo con i Piper, poi però la parte mia artistica ha prevalso, poi ho fatto altre cose, ho dipinto, però sono una persona piena di passione, ma credo che sia poi quello che tiene vivi tutti, infatti spesso l'età non è l'età anagrafica, io lo dico, ogni tanto mi sento una sedicenne, diciassettenne, ma perché mi domando sempre come mai succedono le cose, perché, come cambiare delle cose, poi sogno tanto. Sì, mi sarebbe piaciuto tantissimo, poi qua è bello perché si sente proprio l'energia fra i ragazzi, la solidarietà uno con l'altro, voler fare squadra e andare avanti assieme, che si sente tanto, non è così scontato, soprattutto magari nel mondo d'oggi, quando io ero ragazzina c'era di più questo senso di gruppo, ora si tende a averlo meno, essi più persone singole che si rapportano alla società, più che un gruppo di persone che ha una stessa passione, qua si sente quel filo conduttore, per cui sì, mi avrebbe fatto veramente tanto piacere. Cosa avrei chiesto a Lucia? Dacci quello che mi chiedono molti ragazzi, dacci l'opportunità di farci conoscere, di farci vedere, e di far vedere come sappiamo fare l'arte o come vogliamo cambiare il mondo, o come vediamo il mondo. Quello di essere ascoltati, che penso che sia quello che mi chiedono e quello che vogliono i ragazzi, ancor più di un finanziamento dei soldi, che è una domanda che magari viene di più da quelli più grandi. I ragazzi vogliono solamente dare spazio alle loro idee, ai loro sogni e chiedono un luogo dove farlo. Io ho fatto dei progetti, quelli legati alla musica con Isoradio, abbiamo fatto un progetto, che era un progetto ancora piccolo, dove avevamo spazio dei ragazzi, che poi abbiamo premiato fuori da Sanremo, c'era la CIA, nello stand della CIA, li abbiamo premiati lì, e questi ragazzi piangevano dalla felicità perché gli era stata data l'opportunità di farsi conoscere. Io credo che sia questa la grande cosa. Noi ora come ministero ho deciso, quando vado in giro per i festival del Cina, di portarmi i nostri giovani talenti, che siano sceneggiatori, attori, registi, perché dobbiamo ricreare forse anche quello star system, che è molto grande nell'immaginario collettivo del mondo, lo star system italiano, per cui abbinare i nostri grandi, nel senso per importanza non solamente di età, ma anche con i giovani e le giovane generazioni, per cui quell'opportunità di farsi vedere. Quando si fanno vedere all'estero, devo dire che sono molto bravi, vengono presi immediatamente, però facciamolo noi, non facciamoci di rubare dagli altri. Beh, sono andata avanti in paralleli in realtà, perché io ho conosciuto Giffoni, me ne sono innamorata immediatamente, e beh Claudio è una persona fantastica, travolgente e appassionato, quando dicevamo prima la passione e l'energia nelle cose che fai, per cui mi ha coinvolto subito, ma venuta qua, io credo che chiunque venga qua, si renda conto di che cos'è Giffoni, e come governo l'abbiamo sempre appoggiato e spero di appoggiarlo sempre di più, ma al di fuori veramente della persona e delle persone che ci sono, è proprio una realtà di cui ha bisogno il nostro paese, è una realtà positiva, è una realtà che può far ragionare, poi io credo, faccia ragionare anche tutti i membri del governo che vengono qua, anche se non hanno strettamente la delega magari su questo come ce l'ho io, credo che comunque gli apra delle finestre anche per altri ragionamenti e per rendersi conto di come si possa comunque stare vicino ai giovani anche in un modo proprio paritario, non solamente io vengo e ti insegno, perché spesso è il contrario, sono i giovani che insegnano a noi. Claudio l'anomalia che è riuscita a creare tutto questo sogno dal niente, io dico sempre che lui andrebbe preso, raccontato a tutti i giovani per dire quando vuoi veramente una cosa la puoi realizzare, lui dal nulla, qua c'era il nulla, ha creato tutto quello che vediamo ora qua, lui è proprio l'anomalia ma nel senso positivo e che tutti noi possiamo essere nella società, lui è la dimostrazione che veramente quando vuoi qualcosa, lo vuoi con il cuore, lo vuoi con la testa, riesci a farlo e ha regalato a tutti noi un sogno. Un saluto a tutti i ragazzi di Gifoni, state vivendo un'esperienza fantastica, un pochino vi invidio e spero che siate sempre di più. Grazie, ciao!